Settimana 5 del Limited, Hoodie Suite vi porta nella difesa a zona 2-3 Simulator, detto anche Limited in cui tutti i giocatori devono avere... Hoodie Suite vi porta nella difesa a zona 2-3 Simulator, detto anche Limited in cui tutti i giocatori devono avere 75 o meno come tripla, detto anche tirò da 3 punti. Tutte le carte validi sono segnate con lo sticker, quindi in pratica c'è una limitazione sola. No, free agent as always, cercando di spendere il meno possibile, ovvero comprando solo il Cinesone, lo Shrek in mezzo all'area, che per la zona 2-3 è indispensabile, ho creato questa squadretta qui. Questo fa schifo, però almeno è un diamante, questo in questo Limited è sgravatissimo. Derrick Rose è molto buono per essere in questo Limited, lo stesso per LeBron, lui fa schifo, però è un tronco in mezzo all'area, quindi così. Ho messo anche la panca per il meme, anche qui spesa 0, in realtà avevo comprato questo ancora tempo fa, però boom, insomma, questa è la squadra. Ustia, Therese Maxi, ah, così male siamo messi. Ah, ce ne erano tutti allora quei due lì, ok, pensavo io di essere figo. Micchia vecchio, non è neanche voluto Chris Boucher, è proprio male, male. Vai. Cioè, beccati sto clinic di difesa zona, tiè, punti pao, punti pao questa difesa zona, e via che partiamo in transizione, andiamo. Sì, Derrick, come i bei vecchi tempi, andiamo. Punti pao questa difesa zona, cazzo. Lì, lì con la difesa zona. Oh, frega un cazzo, me lo tengo. Ron Harper, Derrick, Griffith, Lebro, oh cazzo. Chiava, da tre lo smeraldo, proprio il cazzo. Leve troppo facile. Serve una big performance del mio coreano preferito, eh, qua, contro Wilt. Ma cos'è? L'anno scorso che lagga, aiuto. Sì, 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 Chris. Mi ricordo ancora il tuo rilascio dal primo mese di NBA. Andiamo. Quando puoi con 4.000 crediti prendere il centro più forte del tuo limited questo weekend. No, mamma mia, un desert questo, eh. Mamma mia, Busce, grazie di esistere. Mamma mia, Chris Busce, grazie di esistere. No, ref, ref, ref. Ma dai, ma dai, ma dai, ma dai, ma dai. Go-Do, 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 go-Do. Boldo online, go-Do, cazzo. Go-Do. Non lo voglio, Anedo, non lo voglio, voglio. No, eh, arriva a letto sinistra, c'era il pacchetto parentale. Derrick Cross, Desmond Mason, Gerald Wallace, un po' mi spaventa, devo dire la verità. Bello, bravi. Bravi, una tripla, incredibile. No, esageriamo, eh. Mamma mia, spicca il volo. Spicca il volo, lì. Ho proprio un'ideona questa, eh. Ma? Sì. No, Kire. Non ci lasciare, no. GG. Eccolo lì. Eccolo lì. Alla magica terza partita. Ma io non sono soddisfatto. Perché battere Kire così, traiardare contro uno di voi, è brutto. Perché dovremmo lasciarci la vittoria, dovremmo metterci d'accordo e regalarci una vittoria. Invece traiardare così è brutto. E io sono un vero uovo. E non lo voglio questo limite. Perché voglio giocare tutta la notte con il siubu coreano. Proprio lui. Seung! Allora, vediamo un po'. Eh, sì, questo standard. Scottie P... Oh no. Oh no. Oh no. È quello scontro diretto. È quello scontro diretto. Ciao. Prossima carriera simulata da carriera di Seung-G. Volo. 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 Godo, 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 step back di Emelcar. Godo, Godo. Lì. 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 Guardalo come corre la transizione. Mamma mia. Mamma mia. La Kimolajevon di Seul. Sì. Lì. Prendi anche questo rimbalzo. E lo fa quittare. E andiamo. E andiamo. Sinistra, Danielito. È sempre lui sinistra. Danielito è una sicurezza. Una sicurezza. James Sainz, Marquise, Johnson, Emelcar, Diandre Jordan e Gianni Aso. Uff. Bravo Derek. Sì. Sì, Derek. È il momento di mettere la tripla. Sì, Derek. È quel momento per punire l'errore avversario. Bravissimo. Sono pazzo. Andiamo a casa. Andiamo a casa. Via, via, via. Basta. Meno male. Meno male. Meno male. Mettila che è importante questa. Bravissimo. Importantissima era questa. Bravissimo. È il momento più importante. Emelcar ti fa quel parziale. Da campione qual è? Da campione qual è? 8 a 0 tutto da solo. E si va sul più 11. Lo fa quittare. E andiamo 5 vittorie di fila, ragazzi. Silenzioso, maletà. Adesso sì che voglio l'anello. Adesso sì. Scelgo io. Responsabilità. Non me lo danno più adesso. Oh no. Oh no. Troppo facile. Tutti giocano a dama. Lui sta giocando a scacchi in questo limite. Vi dico solo questo. Molto breve. L'avrò presa nel deretano. Eccola. No. No. No, no, no. No, no, no. Perché tanto quando c'è lui in difesa. Non è importante dove metti gli altri. L'importante è dove metti lui. Se puoi segnare la seconda, magari. Bravo, Carr. Più 7. Andiamo. Mamma, che rischio. Bravissimo. Lei è chiusa. Oh, dai. Dammi sto anello che voglio andare a provare John Wall. Dai. Non mi danno più l'anello. Aiuto. Russell Westbrook. Ah, eccolo che non l'abbiamo mai visto. Mamma mia. Mamma mia. Dennis Rodman. Seung, Seeker Staff. Vabbè. Bebo, sinistra. Troppo facile. Ma questa è la mia squadra? Ah, con Joe Smith centro. Madonna, che cazzo che prendi dal coreano pazzo. Mamma mia. Ho fatto la cazzata. Bravo. Lebron che fa una bella difesa. Rose lo concediamo. Ma questo è bravo. Eh, mi sa che arriva la prima sconfitta allora, eh. In teoria ce l'ha, Mice Bridges. Eh, infatti. Infatti. Bravo. Ah, vabbè. Almeno non sbaglio neanch'io. Dai. Buono. Beh, questa la sbaglierai. No, questo non sbaglia mai. Mai. Ah, vabbè. GG, dai. Non perdiamo tempo. No, no. Ma dovevo bastavano 5 win di fila. Quindi sono tranquillo. Che squadraccia. Ok. Io ho capito che il mio coreano sembra così forte e così bello da sembrare un angelo. Ma non per questo diventare trasparente. Dai, Kleber, bravo. Andiamo avanti. No, voglio il cazzo di anello. Voglio. Eppi. Te la trasto. Ciao, Marco. Michael Jordan set bad. Che cos'è sta squadra? Ma cosa? Ma cosa vuol dire? J de Rosa. Baba. Sì. Sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Che cosa? Che azione appena ha fatto questa? Un po' bigua. Bravo, cazzo. Vai. Olè. Guarda. Ha il potere di finire questo strazio. Joe Berry, che... Che cazzo. Bravo, Boucher. Guarda che giocatore. Guarda che giocatore. Guarda che giocatore. Chiudere lui. Allora, James Ailes, Marquise Johnson, Larry Keno, Brad Doerr. Con due che squadra. Cazzo. Vieni, 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 vieni. Che ti meriti questo coso? Boucher. Già lo sai. Cash. Straight cash Boucher. Questo limited. Bravissimo. Silenzioso ma letale come le migliori scoreggio. Più dieci. Si oscura la vallata ancora una volta. E' melcarcela, eh. E' melcarcela. E' melcarcela. Questo mi sembra anche abbastanza sveglio che se gli scarico una difesa a zona addosso mi fa un culo come una capanna. E' che se ha il playmaker che tira perché Andre Miller per questo playmaker per questo limited è un tiratore io non so come difenderlo. L'unica partita che ho perso era proprio così. E' questo fa verde anche con Desmond Meso. Bravo. Bravo. Primo vantaggio di serata. Anche lui non tira però magari ogni tanto una la mette. Eccolo. 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 Eccola la tripla. Madonna. E' importantissima Marcus Johnson che non è che sia proprio esattamente un cecchino. Ah! Pure partite i supplementari come se fosse un già abbastanza come se non fosse già abbastanza lungo questo limited. Ma che cos'è? GG. E vai che se ne gioca un'altra. Via! yeah! Yeah! Ce l'ha anche lui Oh no Ah no, non è vero Zion, quello starter Cosa? Alex Injilis Di Andrejton Sto avendo veramente delle visioni a questo punto Un po' lontanuccio questo Poi il car Strive cash Dai ragazzo Uschè Sì Ma in realtà secondo me Fazzio è il centro Sì 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 Sì